Facebook Ads, farle o non farle? Lo scopriremo insieme in questo video. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta parleremo delle Facebook Ads, le sponsorizzate che noi facciamo tramite i canali meta, quindi in realtà non solo Facebook ma anche su Instagram, per capire effettivamente ma le dobbiamo fare oppure facciamo i post e basta e le lasciamo perdere. Perché questo è un argomento davvero molto importante e che alcuni di voi ancora non hanno capito effettivamente come puoi procedere. Come sempre prima di iniziare ti invito a iscriverti al canale e attivare le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Poi se vuoi saperne di più sui miei servizi, in descrizione troverai il link che ti riporta alla mia pagina, al mio sito web. Ma incominciamo, parliamo di questo argomento delle meta ads. Quindi a che serve farle? Perché molti di voi diranno, sì va bene, ma io pago il mio social media manager, faccio i post, però no, io poi il budget per le ads non ce l'ho. A quel punto dico, sai che c'è? Lasciamo stare. Perché è vero che tu mi paghi, però a un certo punto io poi ti posso risolvere la situazione e farti raggiungere gli obiettivi. Perché poi dipende anche da quelli che sono gli obiettivi. Perché è molto probabile che io non riesca a fare un ottimo lavoro se non andiamo a integrare a una buona comunicazione online anche le sponsorizzate. Perché le situazioni possono essere molteplici. Perché in tutti gli hotel e strutture ricettive non hanno una buona base dalla quale partire. Perché ci sono alcuni, mi capitano strutture, villaggi, hotel, che partono da una base solida di 10.000, 20.000 follower, utenti reali, utenti che sono stati effettivamente nella struttura e sono contenti di questa comunicazione che si va ad adottare. attenzione, una buona comunicazione significa che non rendi la tua pagina Facebook un mero catalogo. E quindi fai offerta 1, 2, 3, 4, 5. Ve lo dico sempre. Quello non è fare una buona comunicazione online e non è nemmeno efficace. Quindi nel momento in cui si parte da quella base, beh in quel caso sì, effettivamente, se si vuole semplicemente mantenere attiva la propria community, si può evitare di fare le sponsorizzate. Però vi propongo anche un'altra questione, che a volte capita che queste pagine magari sono state lasciate lì a se stesse per mesi, perché magari si tratta di una struttura che fa semplicemente lo stagionale e quindi durante l'inverno magari è capitato che non sia stata gestita la pagina. Beh, non è che nel momento in cui torno a pubblicare Facebook dice ah, no, devo far vedere assolutamente questi post a tutti i tuoi follower. No, a volte serve risvegliare il pubblico e dire ciao, sono tornato, vedete qua ci sono i miei post. Ora, se volete evitare questo e utilizzare le sponsorizzate per svegliare la vostra community, beh, vi dico quello che dovete fare, ovvero non abbandonare le pagine durante i periodi di chiusura, ma comunque coltivare una conversazione, comunque la comunicazione con la vostra clientela che già vi segue e vi è fedele. Ma invece pensiamo ad altre situazioni, pagine di hotel che sono a zero, zero follower, ovvero che tu proprietario, nemmeno tu segui la tua pagina. Quindi magari ti stai impegnando tanto per fare questi post, per fare una buona comunicazione, perché magari mi segui, segui altri content creato, hai preso libri, ti sei informato, hai fatto un corso di formazione perfetto, ma a chi stai parlando? Non ricondividi post, nemmeno tu la segui, non la fai seguire manco i tuoi dipendenti, stai parlando al vento. Quindi devi cercare qualcuno che ti segue, devi sponsorizzare un attimino i tuoi post, devi dargli un attimino di visibilità, perché a volte mi capita di arrivare in consulenza e di trovarmi pagine con zero presenza, ma zero, credetemi, e dall'altra parte c'è qualcuno che si sta impegnando per pubblicare, ma alla fine non sta parlando a nessuno. Quello, sì, è un lavoro che non vi darà nulla indietro, quelli sono i social che non funzionano, Facebook è tutta una truffa, beh, lì significa non saperli utilizzare bene. In altri casi ci troviamo con community che comunque sono state costruite male, quindi persone che sono state aggiunte magari alla pagina per motivi differenti, ovvero magari sono stati uniti, sono stati fatti aggiungere dall'animazione, perché hanno promesso un certo tipo di comunicazione, e alla fine poi gli ospiti si trovano solamente delle offerte. Oppure vi faccio un esempio che vi riporto spesso, che non c'entra con gli hotel, c'entra con una pizzeria, però questa è una cosa che mi ricorderò finché ne avrò vita, ovvero di una pizzeria dove lui pizzaiolo gestiva la pagina della pizzeria, poi la moglie metteva i post di brochet sulla stessa pagina, perché voleva cercare di raccogliere più persone possibili. Capite bene che magari io mi sono iscritta alla pagina per la pizzeria, e poi mi trovo i post di brochet e viceversa. Capite bene che in quel caso il pubblico non va bene, non è disposto ad ascoltarvi e ve lo dovete andare a cercare altrove. E questo parliamo semplicemente solo nel caso vogliamo farci ascoltare, coltivare una community. Ma nel momento in cui abbiamo necessità di nuovi clienti, bene signori, se speriamo di trovare nuovi clienti semplicemente avendo una comunicazione organica dove non diamo soldi a meta per far vedere i nostri post, bene, vi posso dire che questa cosa non funzionerà. Quindi se dovete fare una riflessione, se contattare o meno un social media manager, un'agenzia che sia, i soldi a budget per le sponsorizzate li dovete avere. È normale, è proprio sta alla base, perché è fondamentale. Da lì si possono fare strategie che riportano le persone al sito web e da lì dal sito web le persone che cosa fanno? Vanno, poi le possiamo ritargettizzare, riprendere, quindi persone che hanno già mostrato interesse, le andiamo a recuperare se magari ci hanno abbandonato una vacanza nel carrello. Oppure possiamo fare delle sponsorizzate di Libre Generation, dove fondamentalmente cosa andiamo a fare? Andiamo a chiedere i contatti alle persone. Quindi che facciamo? Paghiamo un meta per avere delle informazioni, un nome, un cognome, un'email, dalla quale poi che cosa si può fare? È tantissimo. Hai già pagato per avere quel contatto, quel contatto entra nel tuo database, non solo lo puoi far chiamare da tuo repartbooking, non solo gli puoi far mandare magari un'email in preventivo, ma da lì puoi far partire un'attività di email marketing e così via. Le possibilità possono essere davvero tante. Ora, qui in questa sede non stiamo a parlare, se è meglio Google Ads o Facebook Ads, perché comunque sono due cose differenti e questo ve ne andrò a parlare prossimamente in un altro video. Ma quello che vi voglio far capire è che se voi volete intraprendere un'attività social per farvi conoscere e migliorare la vostra reputazione online, le Facebook Ads non sono opzionabili. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, tutto quello che meta, l'azienda meta vi offre, quello non può essere un pacchetto opzionabile. È ovvio che poi va scelta la strategia migliore per la vostra esigenza, perché ricordatevi, ognuno di voi è diverso, ognuno ha strategie differenti e quindi si deve andare poi alla ricerca delle sponsorizzate giuste, perché non se ne fa una in base, ma se ne fanno diverse, che siano giuste per raggiungere i nostri obiettivi. Molti penseranno, vabbè, ma il mio obiettivo è fare più soldi, avere più clienti. Beh, credetemi che non è l'obiettivo di tutti. Ci sono alcune persone che invece vogliono, per esempio, avere una gestione online dei propri clienti, perché molti mi dicono anche in consulenza, guarda, Alexa, io ho i miei clienti, ho il mio modo di acquisirli, va benissimo, oppure preferisco collaborare con il tuo operetto, quel che sia, ma ho una community online che non me la gestisce nessuno, ho un brand che coltivo da anni e che deve essere gestito, perché altrimenti online noi possiamo perdere anche il polso della situazione. Quindi, come vi dicevo, essere sui social va bene, fantastico, avere delle pagine vuote dove non comunicate niente, non serve a nulla, fate prima a cancellarle. Se invece volete impegnarvi a comunicare col mondo, bene, dovete anche sponsorizzare. Se fate da soli, quindi il fai da te delle sponsorizzate, vi dico una cosa, non è che voi fate la sponsorizzata e da domani avete 100.000 euro di fatturato. Non funziona così, perché anche le sponsorizzate sono un vero e proprio lavoro a parte dove c'è tanto di strategia dietro e soprattutto vanno ottimizzate di volta in volta, c'è un gioco di copy, c'è un gioco di creatività, ci sono veramente tanti elementi che entrano in gioco, anche di budget banalmente. Quindi, credetemi, funzionano, sono davvero molto utili, ma dipende anche come le utilizziamo e per quale scopo. Io spero con questo video di avervi fatto comprendere una parte davvero importantissima che deve essere quella della vostra strategia per la vostra comunicazione online e da oggi in poi non dovete più considerare come un'opzione, ma tenere la parte integrante di tutto ciò che andrete a fare, quindi metterla a budget. Poi per gli importi, già vi posso dire che io una risposta da qui non ve la posso dare, però parliamoci chiaro, mi è capitato di persone che mi hanno detto no, ma io faccio la sponsorizzata con 2 euro, con 2 euro non andiamo da nessuna parte, c'è chi mette dalle centinaia di euro, quindi dipende anche dalla grandezza della struttura, da clienti che arrivano a farmi gestire budget che vanno dai 2.000 euro in su per aumentare nei momenti più caldi, ad esempio in giugno, luglio. quindi capite bene, i fattori sono tanti, se volete saperne di più fatemelo sapere nei commenti oppure visitate il mio sito web e chiedete una consulenza gratuita e conoscitiva e poi io, in caso, vi aspetto nel prossimo video. Mi raccomando però, prima di andar via, iscrivetevi al canale, così scoprirete sempre più i miei contenuti. Grazie. Grazie.